Un video speciale che vede protagonista la figura femminile nei diversi aspetti e settori della società come la musica, l'arte e la scienza. È l'idea nata dal comune di Cogli al Metauro in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il filmato realizzato dall'emittente televisiva FanoTV andrà in onda sul canale 17 lunedì 8 marzo alle ore 21 e sui canali social. Questo video parla delle donne, le donne che si sono distinte nel nostro territorio ma ci auspichiamo che possa essere anche un messaggio per tutte le donne che sia in grado di spronarle per cercare di promuovere la partecipazione attiva delle stesse per migliorare la società civile in cui vivono e il territorio che abitano. Nello specifico possiamo trovare donne giovani e anche meno giovani che hanno fatto, che si sono appassionate all'arte sia per farla diventare quella che è la loro attività fondamentale, quindi l'attività lavorativa, ma anche donne che nel loro tempo libero si impegnano e coltivano le loro passioni, quindi ci saranno interventi di teatro, quindi donne che recitano e fanno la loro attività teatrale, pitture, ma anche laboratori artigianali e artistici del nostro territorio. Il video, dal titolo 8 marzo, donne, arte e territorio, è stato girato nella cornice del Museo del Bali e vedrà un alternarsi di immagini girate negli spazi di questa storica struttura e nei vari borghi caratteristici del comune di Colli al Metauro. Quindi vi invitiamo lunedì 8 marzo dopo il TG su Fano TV per il nostro speciale con il nostro messaggio delle donne e per le donne.